Ciao a tutti! Ormai è stata piena e quindi tutti vogliamo un'abbronzatura atomica. Ma come fare ad avere un'abbronzatura atomica senza scottarsi e diventare delle aragoste, come spesso succede a me? Allora, innanzitutto usare una buona protezione solare, a seconda del fototipo che siete, anche se siete un fototipo che si abbronza facilmente, quindi avete tendenzialmente la carnagione scura, usate, usate, usate una protezione. E poi ci viene aiuto anche dalla integrazione alimentare. In particolare ci sono tre vitamine che vanno utilizzate per migliorare intanto la qualità dell'abbronzatura e anche per proteggerci dai raggi solari. E sono integratori a base di vitamina E, di vitamina C e di vitamina A. In particolare non proprio vitamina A ma beta carotene, che è un precursore, un parente diciamo della vitamina A. Il beta carotene, che è contenuto in grossa concentrazione anche nelle carote, per esempio nelle albicocche, nella frutta di questa stagione in particolare, ha una funzione di proprio migliorare il colore della bronzatura, quindi farvi venire quella bella pelle dorata che ci piace tanto, e nello stesso tempo di evitare che vengano eritemi solari, grosse irritazioni sulla pelle e che magari ci rimanga la pelle calda per tanto tempo. Quindi, mi raccomando, protezione solare, buon filtro, buono schermo e una pastiglietta o due, a seconda dei casi, di beta carotene e comunque di integratore a base di beta carotene e delle altre due vitamine C ed E. Chiedete consiglio al vostro farmacista e perché no anche al vostro medico di fiducia. Ciao ciao!